Amici di Mi End, abbiamo qui oggi per voi il nuovo Nokia Lumia 820, il telefono di fascia medio alta di Nokia. Iniziamo subito con il design, come potete vedere è l'unico che si differisce un po' di estetica dal resto della gamma Lumia. Ha un vetro piatto, e non ricurvo come gli altri telefoni, e delle scocche intercambiabili al posteriore. Tra l'altro l'assemblamento è molto solido perché anche se il cellulare vi cade non si staccherà la parte posteriore. Adesso vi faccio vedere come si apre dall'angolo in alto a destra, così. Poi prendete l'altro angolo e spingete verso di qua. Adesso non lo apro, se no cade la batteria. Allora, nella confezione che io purtroppo non possiedo, abbiamo un caricabatterie da viaggio, un cavo USB-micro USB, delle cuffie in ear di buona fattura, col microfono, e i vari manuali di istruzione. Questo telefono monta una batteria BP-ST da 1650 mAh, che è il punto dolente di questo bellissimo telefono. Dura circa 8 ore con un uso medio-alto. Comunque, se state attenti a settare nelle impostazioni le applicazioni che vengono eseguite in background, il risparmio batteria e la luminosità, eccetera, magari potete arrivare anche oltre. Io, per esempio, ieri, dopo un po' di cicli carica e scarica, sono riuscito ad arrivare verso le 8 e mezza di sera, il risparmio energia. Alle dimensioni sono 123 x 68 x 9,9 mm e 1600 g di peso. I materiali davanti abbiamo un display in vetro e, al posteriore, la solita cover in policarbonato, molto resistente, come abbiamo detto prima. Il display è un 4,3 pollici AMOLED Clear Black, molto, molto bello. A me piacciono tantissimo gli AMOLED. Ovviamente il touch è capacitivo e abbiamo l'uso anche con i guanti, che ho provato poco fa. E devo dire che dopo i primi 5 minuti di assestamento, quindi secondo me, in base al tipo di guanto, al tipo di spessore che ha il guanto, il touch si regola e si adatta di conseguenza, quindi all'inizio non vi andrà proprio bene. Poi dopo i primi 5 minuti l'uso è perfetto. Abbiamo anche, come chicca, la ricarica wireless e l'NFC. Abbiamo praticamente solo tre tasti touch, avendo Windows Phone 8, il tasto di Windows, indietro e cerca. Poi abbiamo sul lato destro il bilanciere per il volume, il tasto accensione e spegnimento e stand-by, fotocamera a doppia corsa e lato sinistro pulito. Inferiormente abbiamo la feritoia per l'altoparlante, molto alto e dai bassi discreti, però volume alto distorce un po', non vi consiglio di utilizzarlo, meglio le cuffie. E il plug micro USB, superiormente l'uscita per le cuffie con jack da 3,5. Quindi potete usare le cuffie che più vi piacciono. Poi che altro? Questo telefono ha un'ottima solidità. Ci sono anche molti video su internet che vi fanno vedere di tutto e di più, quindi tagli col coltello, gettato per terra più volte, è molto molto resistente. Vi parlo anche un po' delle caratteristiche hardware, abbiamo due fotocamere, quella posteriore è da 8.7 megapixel con doppio flash LED, gira video a 30 frame per secondo, è uno zoom 4x nei video, video a 1080p, lo zoom, attenzione, bisogna settarlo prima di iniziare la registrazione, e l'anteriore è una fotocamera semplice da 640x480 pixel. Serve per fare videochiamate, attenzione, non via GSM o 3G, ma via Skype o Viber. Poi abbiamo un processore Snapdragon S4 Dual Core da 1.5 GHz, che ovviamente fa girare il tutto ottimamente, come potete vedere, nessun impuntamento, però siamo abituati a vedere questa velocità in tutti i Windows Phone, dalla fascia bassa a quella alta. La rete è un'ottima, abbiamo un GSM 4 bande, un 3G plus, quindi che arriva a 42.2 megabit per second, quindi con HSPA plus, a 4 bande, e poi 5 bande per il 4G LTE, che arriva fino a 100 mega al secondo. Ovviamente non otterrete mai questo risultato, io vi faccio vedere in LTE quello che ho misurato con lo speed test. Allora andiamo nei risultati, la massima velocità che ho registrato in LTE è di 36,17 Mbps in download e 9,10 Mbps in upload. Diciamo che si classifica tra i telefoni LTE che abbiamo visto per il momento sul mercato, tra l'iPhone, che è quello di velocità più bassa, e il Samsung Galaxy S3 con LTE o il Note con LTE. Quindi il Note è per esempio quello con velocità più alta, poi abbiamo questo, e poi per ultimo, come velocità più bassa, l'iPhone 5. Andiamo avanti, abbiamo diversi tipi di espansioni, abbiamo una micro USB, qui sotto, poi abbiamo il Bluetooth 3.0, che serve per scambiare dati, anche condividere per esempio dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi posso inviare musica eccetera, adesso per esempio vi faccio vedere, non so, nelle foto, andiamo negli album, una foto di queste, io posso fare condividi, sia via NFC, quindi appoggio un altro telefono qua, col Bluetooth acceso ovviamente e si scambieranno i dati, oppure semplicemente se non ha l'NFC via Bluetooth. Poi abbiamo una rete VLAN BGN, l'NFC con pagamento sicuro, contactless, che in Italia non è ancora arrivato ma all'estero c'è, purtroppo qui in Italia siamo sempre ultimi, e come dicevo prima la ricarica wireless, attenzione per la ricarica wireless dovete comprare la cover posteriore con il chip wireless, per la ricarica wireless, e la basetta che ce ne sono di due tipi, una in tessuto e una rigida, costa circa tra i 50 e i 60 euro, la trovate anche su ebay, purtroppo non c'è ancora molto usato in giro, però se aspettate ancora un po' dovremo trovarlo. La memoria è di 8 GB, che è un po' scarsa per questo telefono, anche se è espandibile la memoria con micro SD, non possiamo ancora installare applicazioni su questa espansione, quindi solo i file multimediali, quando installiamo un po' di applicazioni, io adesso ne ho tantissime, però quando ne installiamo un po' iniziamo a vedere i problemi. Inoltre un altro problema di questo telefono, di Windows Phone 8 in generale, che verrà risolto col prossimo aggiornamento, è un problema nella cartella altro, nel senso, questo sistema operativo ha un difetto, che dopo un po' di tempo, i file temporanei che si vengono a creare, non so, con la visitazione di pagine web, o con l'utilizzo di giochi, o installazioni di applicazioni, tutti questi fa i temporanei non vengono cancellati. Ovviamente bug che verrà risolto subito. Nel frattempo, per svuotare questa cartella altro, io ho trovato un programma, che si chiama Shrink Storage. Questo programma è totalmente gratuito e si trova sul market, quindi non dovrete effettuare alcun jailbreak del telefono. Dovete eseguire semplicemente le istruzioni qui indicate e vi libererà la memoria dello spazio occupato da questi file temporanei. Io per esempio sono riuscito a svuotare un giga e mezzo, che non è poco. Andiamo avanti. Vi stavo dicendo memoria da 8 giga scarsa, micro SD per espansione fino a 54 giga. E poi abbiamo un cloud di 7 giga su SkyDrive. Ovviamente potete installare anche altre applicazioni cloud che vi forniranno ulteriori giga. La RAM è di 1 giga, fa girare il tutto molto bene. E per le mappe abbiamo GPS GLONASS con magnetometro. Adesso vi faccio vedere, per esempio, la navigazione ci trova anche se siamo all'interno di un edificio. Come vedete ci ha già identificato. La navigazione è gratuita su questi telefoni con la suite Here di Nokia. Potete scaricare le mappe di tutto il mondo offline. Vi ricordo che questo programma è disponibile anche per gli altri Windows Phone per il momento in maniera gratuita, solo che se non avete un Nokia avrete solo un paese a disposizione per il download offline. Le altre mappe dovrete utilizzarle in modalità online, quindi tenere accesa la connettività. Andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere, per esempio, le chicche di questo telefono che sono la fotocamera e la ricarica wireless. Come sappiamo Nokia utilizza lenti Carl Zeiss e software ottimizzati per la fotocamera. Adesso vi faccio vedere un po' di foto che ho fatto. Per esempio questa è in penombra. Speriamo che ci fa il fuoco esatto. Adesso dovrebbe averlo fatto. In penombra le foto vengono molto bene. Qui è sempre di notte sotto un tunnel illuminato, ma è perfetto. Qui ho provato a fare una foto col flash a una distanza di 10 metri da un soggetto e è molto buia, però comunque qualcosa è avvenuto e non c'è tantissimo rumore video. Invece queste sono foto che ho fatto all'interno della mia auto in piena notte col flash e devo dire che comunque illumina molto bene. Praticamente era buio pesto, non si vedeva niente. Queste sono foto che ho fatto durante il giorno. Qui ne ho fatta una per terra, qui una con doppia esposizione, quindi alta luminosità e bassa, è venuta abbastanza bene. Qui all'orale della mia università. Le foto vengono molto, ma molto bene. Mi hanno deluso tra virgolette un po' le foto con soggetti lontani, tipo questa qua, che vengono un po' sfocate, ma secondo me è un problema a livello di software che non mette molto a fuoco, mentre invece le macro sono spettacolari. Per esempio questa foto fatta al volante della mia macchina si vede egregiamente insomma. Andiamo avanti. Un'altra chicca, come vi ho detto prima, è la ricarica wireless. Vi ripeto che l'accessorio costa circa tra i 50 e i 60 euro. Adesso vi faccio sentire come chiama questo telefono. Anche in viva voce. La rete è molto, ma molto buona. Faccio sentire anche l'altoparlante. Allora, come avete sentito, la qualità è abbastanza buona, il volume non è altissimo, quindi vi consigliamo se lo utilizzate in macchina di comprare auricolare bluetooth oppure se avete un viva voce integrato nella vettura, tanto meglio per voi. Comunque la rete è molto, molto buona e la qualità dell'audio con la capsula auricolare è eccezionale. Ci sentono e noi sentiamo molto, molto bene. Ora vediamo le applicazioni che Nokia integra nei suoi telefoni. per esempio c'è la suite HERE, composta da HERE City Lens, Drive Plus Beta, Maps e Transit. City Lens non è altro che realtà aumentata, quindi selezioniamo i punti di interesse come per esempio ristoranti e bar e orientando la fotocamera ci farà vedere intorno a noi i tipi di ristoranti con relativo indirizzo. Come vedete se io oriento il telefono in questo modo mi fa vedere la mappa dall'alto, se io lo metto dritto mi fa ritornare. Per esempio ci dà gli indirizzi, possiamo aggiungerlo ai preferiti, possiamo arrivarci col navigatore, ci fa vedere la strada, possiamo anche avviare la navigazione tour by tour, quindi le applicazioni adesso sono collegate, al contrario di prima. Qui abbiamo anche delle liste senza realtà aumentata. E poi aspettate che vi faccio vedere le altre. Drive Plus Beta è quello che vi ho fatto vedere prima, quindi la navigazione turn by turn con le mappe offline. Here Maps che è quello che avete visto un secondo fa. Ideale per la navigazione a piedi. Molto molto buono anch'esso. E poi Here Transit che praticamente in base alla vostra città e al vostro gestore di trasporto pubblico vi indicherà i mezzi di trasporto vicini e in alcune città, per esempio anche gli orari di arrivo in tempo reale. A Milano io non sento molto il bisogno di questa applicazione perché l'azienda dei trasporti milanesi ha fatto già la sua, che è questa, che è molto comoda, possiamo mettere fermate vicino a noi e ci indica in tempo reale i tempi di attesa. Anche se la fermata non ha il display. Poi ci sono altre applicazioni per la fotocamera, ci possiamo accedere da qua. Abbiamo Bing Vision che praticamente ci possiamo accedere anche dal tasto cerca. Ci cerca per esempio codici a barre oppure Microsoft Tag, libri, CD e DVD, oppure se noi mettiamo per esempio un testo come sfondo e lo fotografiamo, ci potrà tradurre in tutte le lingue che vogliamo il testo. Poi abbiamo foto effetto cinema. Vi faccio per esempio vedere così, scattare una foto tenendo il telefono fermo. Praticamente che cosa ci permette di fare? Ci permette di animare delle aree. Non so, per esempio, se voi volete tenere, non so, state facendo una foto a un vostro amico che va in skate e volete tenere fermo tutto il resto e far muovere solo lui, selezionate le aree da animare, in questo caso non c'è niente perché il soggetto era fermo, beh ci sono questi due punti che però si muoveranno in maniera minima, sarà le mie vibrazioni, dato che non sono un chirurgo, vi animerà appunto l'area che selezionate. Poi abbiamo panorama che è la classica foto panoramica, ci farà una foto a 360 gradi, poi c'è il traduttore che è quello che vi dicevo prima, quindi inquadrate un testo e vi tradurrà in tutte le lingue che volete, molto comodo, così non dovete stare a scrivere tutto. Poi camera 360 che è un'altra obbligazione non fornita da Nokia, che però ci permette di applicare diversi effetti e mi è piaciuta molto, possiamo anche modificare le foto premendo questo tasto, per esempio possiamo ritagliarla, aggiungere degli effetti particolari, scenari eccetera. Niente male, vi consiglio di scaricarla. Poi abbiamo Sofi Lens, anche questa è un'applicazione che non ho ancora ben capito se è stata fatta da Nokia o no, sempre simile a camera 360 e Photo Smart. Photo Smart è molto comoda, per esempio se state facendo una foto ai vostri amici, e vi permetterà di scegliere la foto migliore. Vi farà più scatti, vediamo, come potete vedere voi potete sfogliare gli scatti migliori, quindi se un vostro amico è venuto con gli occhi chiusi non vi preoccupate, potete stare tranquilli e utilizzare questa applicazione. Poi un'applicazione molto bella per editare video è questa, Vyclon, dove praticamente potrete editare come volete aggiungendo effetti o altro, i video che più preferite. Vabbè comunque è molto molto comoda anche questa applicazione. Andiamo avanti, allora, per i social, vabbè questo sistema operativo come abbiamo detto più volte è molto molto integrato, quindi la rubrica è completamente social, potete vedere tutte, oltre, vabbè, il numero di telefono e le informazioni personali che aggiungete voi, la bacheca di Facebook, le foto di Facebook e la cronologia dei vostri contatti. Inoltre la chat di Facebook è integrata nella messaggistica, basta schiacciare il tasto che ho appena schiacciato e rendersi disponibile, invisibile, occupato, assente. Poi, 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 vi faccio vedere la nuova applicazione beta di Facebook che finalmente è arrivata per Windows Phone 8. È molto molto buona, non c'entra niente con quella che c'era prima che faceva altamente schifo, è molto fluida, ha la grafica simile, anzi, secondo me, leggermente migliore rispetto agli altri sistemi operativi. Inoltre, vabbè, anche se non ce ne sentiva il bisogno perché abbiamo la chat integrata nel sistema operativo, abbiamo anche la chat. Come vedete, va molto molto fluida. Inoltre, al contrario di altre applicazioni Facebook, possiamo, per esempio, zoomare sulle foto presenti in bacheca, come potete vedere da qua. Andiamo avanti. Allora, vi faccio vedere anche Skype che secondo me è ancora migliorabile perché non mi ha fatto impazzire. La qualità è buona, però, per esempio, non c'è ancora la possibilità di inviare molti tipi di file, quindi non mi fa ancora impazzire. Poi WhatsApp rispetto... beh, sui Dual Core va molto più veloce rispetto a prima, anche l'avvio è pressoché istantaneo. Tra l'altro adesso a breve dovrebbe uscire una nuova versione che implementa nuove funzionalità e una grafica leggermente rinnovata, sempre in stile metro. Poi vi faccio vedere come scrive questo telefono. La tastiera... come potete vedere è molto comodo. Abbiamo anche la scrittura... non ho fatto un errore. Ci abbiamo anche la scrittura vocale. Ciao, arriverò con dieci minuti di ritardo. Ciao, arriverò con dieci minuti di ritardo. Come potete vedere qualche errore lo fa, per esempio mi ha messo un punto di domanda che non c'entra niente. Comunque è tutto molto molto comodo. Abbiamo anche i comandi vocali, tenendo premuto il logo di Windows. Vi faccio vedere la guida. Per esempio possiamo... va beh, dire chiama un numero... chiama un certo contatto al cellulare, in ufficio, eccetera. Cercare un bar a Milano o altri negozi, aprire applicazioni, inviare sms e scriverli vocalmente o prendere delle note all'interno del Lab Office. Ci sono inoltre delle api che Microsoft ha integrato nel sistema operativo, quindi gli sviluppatori possono utilizzare i comandi vocali di Microsoft all'interno delle applicazioni. Speriamo che WhatsApp, per esempio, prenda la palla al balzo. Molto molto comode queste funzioni, soprattutto se siete in macchina. Vi faccio vedere la navigazione in Internet. abbiamo Internet Explorer. Andiamo sul sito di Mi End. Abbiamo anche il Shortcut.it oppure .com, dipende dal paese in cui siamo. Come vedete il rendering è molto buono, il pinch to zoom è ai massimi livelli. Insomma, la navigazione in Internet con Windows Phone è sempre stata ottima. Il browser non ha flash, però hanno inserito un plugin, quindi se noi utilizziamo la navigazione desktop, anche se non esiste flash, per esempio su YouTube, dopo una breve attesa, come avete visto, ci dà la possibilità di eseguire il video. Cosa che prima non succedeva. Inoltre, a proposito di YouTube, vi faccio vedere la nuova applicazione che purtroppo verrà ritirata dal market a breve perché Google, che è la proprietaria di YouTube, ha vietato a Microsoft di pubblicare un'applicazione nel market, peccato perché era molto buona, la fluidità ai massimi livelli, abbiamo i canali, possiamo gestire il nostro canale. Inoltre c'era anche la possibilità di vedere i video in 1080p. Speriamo che Google cambi idea perché non ci sembra comunque corretto questo comportamento. Poi vi faccio vedere anche, per esempio, Office. La fluidità è migliorata molto dove possiamo vedere sia i documenti Word, Excel e PowerPoint che abbiamo all'interno del telefono sia all'interno della cloud di SkyDrive. Per esempio, non so, vi apro un appunto di OneNote. Come vedete la navigazione è istantanea anche se i documenti sono online. Vi apro anche degli altri documenti. Aspettate che si sta collegando all'account. Ci apre anche i PDF. Programma dei PDF. Anche se questo, per esempio, è abbastanza pesante perché hanno utilizzato una alta risoluzione per fare questo PDF. Come potete vedere il caricamento è lento, però possiamo comunque navigare e zoomare senza problemi. Excel. La velocità è migliorata di tantissimo. Anche l'usabilità. Non abbiamo più quell'effetto un po' scattoso dovuto magari al processore un po' deboluccio dei vecchi Windows Phone. Quindi monocore. Qui abbiamo una velocità ai massimi livelli e possiamo utilizzare tutte le funzioni del caso. E Word, come al solito, è comodissimo. Non c'è niente da dire. Ovviamente tutti questi file è possibile condividerli con tutte le applicazioni del caso. Ecco, una cosa non molto bella. I PDF dall'applicazione PDF Reader non si possono inviare via mail. Dovete averli nell'Hub Office. Quindi o in SkyDrive oppure all'interno della memoria. Non potete inviarli dall'applicazione PDF Reader. Vi faccio sentire un attimo la musica. Adesso non abbiamo più zoom. Il telefono lo collegate via USB al computer. Vi verrà letto come archivio di massa. Quindi potete anche navigare tra le cartelle. Vi faccio sentire B.O.B. So Good che ormai è la canzone che facciamo sentire. Audio al massimo. Audio abbastanza buono dalla capsula integrata. Non è chissà che cosa perché ovviamente è mono però i bassi sono abbastanza buoni. Distorce un po' a volume alto però niente male. Dalle cuffie ovviamente si sente molto ma molto bene. Vi faccio vedere anche l'Hub giochi. Vi apro la demo di Asphalt 7. Abbasso il volume se no non si sentirà niente. Tocchiamo lo schermo per continuare. Partita libera. Partita libera. Va benissimo così. Utilizziamo la 500 Abarth. E aspettiamo il caricamento. Ovviamente è possibile utilizzare la funzione multigiocatore o tantissime possibilità di connessione con il mondo Xbox. Che io non ho quindi personalmente non vi posso dire se funziona bene oppure no. Saltiamo il video. Come potete vedere la fluidità e la grafica del gioco sono abbastanza buone. Utilizziamo il NOS. Insomma questo processore benché sia un dual core siamo abituati a vedere magari dei quad core in giro eccetera. Comunque su questo sistema operativo va molto molto bene. Lo store è comunque in continua espansione. Le applicazioni sono sempre di più e sempre di qualità maggiore quindi siamo sulla strada giusta. Concludiamo. Pregi di questo telefono. Resistenza, design, immediatezza nell'uso, velocità, foto molto ma molto buone e l'LTE. Tutto questo ha un prezzo pressoché basso. Potete trovare questo telefono dai 250 ai 500 euro. Io per esempio l'ho pagato 250 ed è praticamente nuovo anche se non ha la scatola. Unico difetto, la batteria da 7-8 ore con uso medio alto che è abbastanza scarsa. Comunque non vi preoccupate. Mugen Power sta creando, anzi ha già creato, due tipi di batterie per questo telefono. Una da 1800 mAh che costa circa 35 euro e lascia invariato lo spessore del telefono. E' una da 3600 mAh che costa 70 euro che però vabbè 3600 mAh non sono pochi e vi aumenterà di poco lo spessore del telefono. Ovviamente assieme alla batteria forniscono anche la back cover. Altro piccolo problema è quell'effetto di Windows Phone 8 che tra poco andrà via. Quindi il riempimento dei pochi 8 giga che sono a disposizione. Comunque scaricate Shrink Storage e eseguite le istruzioni del caso. Questo telefono nel complesso mi è piaciuto e lo ricomprerei un'altra volta. Allo stesso prezzo ovviamente che l'ho pagato. Se no a prezzo intero magari avrei qualche dubbio. Un saluto da Lorenzo Terzi.